Io penso sia più fondamentale il fatto che abbiamo ritrovato quello spirito di gruppo che ci ha consentito di fare risultato a Chievo. Il primo passo l'abbiamo fatto e adesso dobbiamo continuare così. È chiaro che quelle sconfitte ci hanno fatto male, però abbiamo reagito e adesso dobbiamo continuare a reagire in questo modo. Io sinceramente non l'ho vista a classifica stamattina, però è un dato di fatto che siamo in quel posto lì, quindi adesso dobbiamo solamente pensare alla partita di domenica. Sì, le parole che ha detto il mister secondo me sono più che giuste, nel senso che dobbiamo mettere da parte anche il fatto di giocare bene e cercare più di puntare al risultato. Però questa è una conseguenza sempre dell'atteggiamento che mettiamo in campo, quindi la cattiveria, l'umiltà, perché senza quella difficilmente poi riesci ad avere dei risultati. Quindi sappiamo che è una situazione difficile, ma situazioni difficili nell'arco del campionato ce ne saranno tantissime, quindi non ci deve spaventare la posizione di classifica, perché se noi andiamo dietro a queste cose qua non ha alcun senso, è inutile. È una partita fondamentale, la dobbiamo considerare tale, perché comunque il fatto che questa sera andremo in ritiro a segnare che la squadra vuole far bene, vuole cercare di accaporarsi in un risultato positivo. È un momento importante e dobbiamo cercare di rimanere il più uniti e il più concentrati possibili, perché l'ho detto anche in passato, anni fa, quando la squadra è unita e dà il massimo tutti possono rendere al meglio. Quindi il fatto di rimanere uniti in questo momento e poi il fatto che è stata una decisione spontanea da parte nostra, i giocatori, è un qualcosa che va a rinsaldare ancora le radici di un rapporto di squadra importante.